Musica Schianto frontale tra un'auto e moto a Fermignano, morta una donna di 51 anni. Il caro Bollette presenta il conto, oltre 1 milione e 600 mila euro in più per il comune di Fano e 3 milioni per il riscaldamento nelle scuole superiori. Seri e Paolini lanciano l'allarme e annunciano le azioni da mettere in campo. Situazione drammatica anche per le imprese, molte a rischio chiusura. Il torrente Arzilla necessita di un intervento di pulizia dell'alveo prima che succeda il peggio. Segnalarlo, i residenti della zona, sotto il ponte del fiume Metauro invece, grossi tronchi e rami bloccano il normale deflusso dell'acqua. I pianti idrici aumentano le perdite occulte tra i privati. Aset S.p.a. invita a monitorare i consumi. Una segnalazione tempestiva consente di limitare i danni. Corafattori è il nuovo assessore della giunta Seri. La firma questa mattina in municipio gestirà le deleghe all'ambiente e alla cultura. I lavori pubblici passano a Barbara Brunori, mentre i quartieri e la cittadinanza attiva ad Etienne Lucarelli. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. In primo piano l'incidente mortale è accaduto oggi pomeriggio intorno alle ore 15 a San Silvestro di Fermignano, dove a perdere la vita è stata Sabina Bolognini di 51 anni. La donna era in sella alla sua moto quando per cause ancora in fase di accertamento si è scontrata frontalmente con un'auto. Lo schianto è avvenuto lungo la strada statale 745 Metaorense. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provato in vano a rianimare la donna, gli agenti della polizia locale e i tecnici di Anas. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. E un altro incidente si è verificato questa mattina intorno alle ore 8 a Fosso Segliore. Una 23enne fanese a bordo di una Volkswagen Up stava transitando verso Pesaro lungo la strada nazionale adriatica quando ha tamponato una moto Ducati guidata da un fanese di 58 anni. A causa dell'urto quest'ultimo è poi andato a collidere con una Dacia Sandero che lo precedeva. Il Centauro è stato portato all'ospedale di Fano in codice giallo. Sul posto oltre al 118 anche il caro Atrezzi, una ditta specializzata per pulire la strada e la polizia locale di Fano. La viabilità è stata interrotta per pochi minuti nel tempo strettamente necessario per soccorrere il motociclista per poi ritornare a doppio senso. E ora apriamo la pagina delle bollette perché oggi il sindaco di Fano Massimo Seri ha lanciato un grido d'allarme annunciando alcune misure da attuare per il contenimento dei consumi. Secondo le proiezioni, alla fine dell'anno il Comune registrerà un aumento di 1 milione e 600 mila euro mentre nel 2023 sarà di ben 4 milioni. Ce ne parla Simona Zonghetti. È una tragedia. Ha esordito così il sindaco di Fano Massimo Seri che ha illustrato ai giornalisti i costi e le previsioni legate ai rincari di luce gas. A chiusura del 2022 la bolletta che riguarda l'illuminazione pubblica gestita da Aset registrerà un aumento di oltre 1 milione e 400 mila euro mentre quella riferita agli edifici comunali e alle scuole 1 milione e 635 mila euro. Per questo il Comune sta continuando un percorso già avviato da tempo per mettere in campo azioni finalizzate a contenere i consumi in attesa di aiuti e misure straordinarie da parte del Governo. Innanzitutto si stanno studiando gli impianti degli edifici che hanno consumi maggiori. Tra questi rientrano le scuole medie, i cimiteri e la Mediateca Montanari. Inoltre si porta avanti il piano di efficientamento globale dell'illuminazione perché ad oggi la riqualificazione ha riguardato solo il 35% dei punti luce della città. Tra le ipotesi rientrano anche lo spegnimento alternato di questi che alla fine dell'anno porterebbero ad un risparmio di circa 330 mila euro oppure, nel caso più drassico ma meno probabile, lo spegnimento totale. Spegnendo i lampioni stradali un'ora al giorno in orario notturno si avrebbe un risparmio complessivo di oltre 29 mila euro al mese. Sindaco, il suo ha detto un vero e proprio grido di dolore. Sì, un allarme che lancio perché ci deve essere la consapevolezza che questo caro bollette che riguarda l'energia elettrica ma anche quella del gas sta portando nelle famiglie perché pensiamo a chi è monoredito, alle difficoltà che porteranno ma anche agli enti locali, ai comuni, pensiamo a tutta l'illuminazione pubblica. Noi abbiamo fatto delle proiezioni da qui a fine anno, da agosto a fine anno dal momento degli aumenti delle bollette perché avevamo i prezzi bloccati prima e ci sono delle cifre esagerate, importantissime, un milione e sette soltanto per quest'anno sono quasi 4 milioni per il 2023 se le cose non cambiano ma poi si aggiungono le spese del gas, si aggiungono le spese dell'impiantistica perché pensate alla piscina, ai maggiori costi. Quindi noi non riusciremo a dare risposte vere se non con interventi straordinari di risparmi ma con dei sacrifici significativi, quindi sono due le cose importanti uno che anche il governo come nelle crisi del covid hanno fatto interventi significativi e dall'altro anche azioni. Intanto ha proseguito il sindaco, oltre agli investimenti per i nuovi punti luce LED ci sono altri progetti come gli impianti fotovoltaici che verranno installati il prossimo anno ad esempio in località Monte Schiantello e al cimitero di Rosciano. E' bene che ci sia la consapevolezza di questo momento straordinario una richiesta forte al governo, aiuti al nuovo perché siamo in attesa che ovviamente vengano il finito domani c'è un incontro anche tra noi sindaci marchigianni perlomeno quelli aderenti ad Anci e nei massimi comuni più importanti insieme alla collega Mancinelli proprio per ragionare sulle misure da adottare e sulle azioni anche di rivendicazione. L'Anci anche a livello nazionale è impegnato a tavoli per trovare soluzioni però ecco c'è questa situazione veramente forte e abbiamo il dovere che la città lo sappia e sia consapevole. Alcune precisazioni sono arrivate oggi dal Codacons secondo il quale i comuni non possono in nessun caso interrompere o diminuire i servizi indispensabili come trasporti e illuminazione pena si legge in una nota una valanga di denunce penali e azioni risarcitorie da parte dei cittadini infatti il segretario nazionale Francesco Tanasi ha spiegato che l'emergenza energia non si risolve tagliando i servizi per trasporti, illuminazione pubblica e strade ha precisato gli utenti pagano tasse e imposte comunali e qualsiasi interruzione scatenerebbe il caos e aprirebbe la strada a controversie legali e azioni risarcitorie contro le amministrazioni senza contare ha proseguito Tanasi che come è stato più volte dimostrato la ridotta illuminazione di strade e luoghi pubblici alimenta incidenti stradali e criminalità con danni diretti per i cittadini e il caro bollette ha messo anche in difficoltà la provincia di Pesare Urbino il presidente Giuseppe Paolini non esclude lezioni in didattica a distanza temperature più basse e luci spente nel pomeriggio nei vari istituti il vero problema sarà nel mese di gennaio sentiamo bollette passate da un milione a 4 milioni e 100 mila euro a tanto ammontano i costi che deve sostenere la provincia di Pesare Urbino il presidente Giuseppe Paolini ammette la difficile gestione della situazione che incombe in particolare sugli istituti scolastici infatti le province non hanno capacità di manovra sulle entrate vivono di trasferimenti statali e dei proventi dell'imposta legata all'immatricolazione delle auto che quest'anno sono diminuite di un milione e mezzo nel frattempo i costi dell'energia elettrica continuano a lievitare di mese in mese e le bollette delle scuole superiori sono aumentate di 3 milioni allo stato attuale si riesce a garantire il riscaldamento solo fino a dicembre c'è l'idea di eventualmente accorciare la settimana scolastica lasciando libero il sabato e magari facendo dei rientri il pomeriggio oppure fare il sabato in dad però ne parleremo con i dirigenti perché non vorremmo intervenire sull'anno scolastico con delle situazioni che possono mettere in difficoltà i studenti ma tutti debbono capire che la situazione è veramente tragica è tragica per le aziende della nostra provincia ma per le aziende di tutta Italia è tragica per le famiglie e da questo non potevano essere esentati i comuni, le province e le regioni i costi sono enormi ha ribadito Paolini e la provincia ha spiegato non può ricorrere a delle tassazioni extra vivendo di trasferimenti il presidente convocherà forse per la prossima settimana un consiglio provinciale straordinario sul tema e poi un'assemblea con i sindaci allo stesso tempo si sta già lavorando con l'Unione Provinci d'Italia e con l'Associazione Nazionale dei Comuni per far pressione sullo Stato il mio comune è un paese piccolo dove c'è una scuola elementare una scuola materna ma anche lì passiamo dai 10-12 mila ai 26-30 mila euro di costi maggiori e questo ti impedisce di chiudere i bilanci come fai a fare un bilancio di previsione quanto sai che oggi sono 36 o 40 mila euro che devi spendere in più 4 milioni e 100 mila che devi spendere in provincia può darsi fra un mese sono 5 milioni di euro non è possibile fare i bilanci Paolini ha poi lanciato un appello allo Stato affinché si mettano da parte le divergenze interne ha detto e si dia una mano a tutti gli enti che in questo momento si trovano in grande difficoltà d'accordissimo che dobbiamo puntare al risparmio ed è una cosa che noi stiamo valutando per esempio non riscalderemo più le palestre il pomeriggio si vanno riscaldate solo durante l'orario scolastico eviteremo di fare gli incontri gli incontri il pomeriggio tenendo le luci accese di riscaldamento dopo le 5 non si faranno più incontri all'interno delle scuole queste sono alcune proposte che faremo gli incontri con i genitori si faranno via web con i social cioè dobbiamo trovare delle soluzioni per risparmiare ed avere un contributo risparmiare perché è eticamente giusto risparmiare energia e non sprecarla e però faremo anche degli incontri per chiedere con lo Stato con la Regione tutto quello che è possibile per fare sì che si prosegua con un anno scolastico tranquillo e ad esprimere forte preoccupazione anche Barbara Marcolini di Coff Commercio Fano perché molte aziende sono a rischio chiusura è un problema enorme che ancora non è stato risolto ma diciamo che il tempo è scaduto anche Coff Commercio lancia l'allarme per il caro Bollette che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese questo peso evidenzato la Presidente Barbara Marcolini comporterà la chiusura delle attività perché non dimentichiamo ha detto che anche durante la pandemia in tanti sono stati costretti a stipulare mutui che non riusciranno più a pagare non ce lo possiamo più permettere perché tra due o tre mesi appunto chiuderanno le imprese addirittura imprese che sono in buono stato di salute che hanno le commesse per poter lavorare dovranno chiudere perché e mandare gli operai in casta integrazione perché non riescono più a sostenere appunto le imprese ci hanno fatto indebitare e adesso ci troviamo in questa situazione direi paradossale quindi quasi a momenti peggio della pandemia e questo non ce lo possiamo permettere Bisogna intervenire subito ha proseguito Marcolini a livello locale, nazionale ed europeo Rispetto all'Italia che ancora purtroppo sta aspettando ci sono dei paesi che si stanno arricchendo si prospetta un futuro non rosio per l'Italia soprattutto per gli italiani anche col rincaro che ci sarà in questo periodo? Assolutamente sì proprio perché si parla di un rincaro di bollette del 173% su base trimestrale il che vuol dire 60% su base mensile famiglie che si troveranno a pagare 2.500-2.900 euro in più appunto dovuto ai rincari e non ci staranno dentro perché dovranno appunto pagare i mutui, dovranno mangiare non dimentichiamoci che c'è l'inflazione inflazione dove il prezzo dei prodotti sono aumentati, così pure per le imprese le materie prime sono aumentate di conseguenza come possiamo andare avanti a sostenere tutto questo? I commercianti cominceranno a spegnere le luci nelle vetrine cominceranno a chiudere quindi si creerà anche un problema di sicurezza e sarà un problema sociale gente che non avrà il lavoro che sarà in cassa integrazione diminuisce il potere di acquisto ma questo è qualcosa di gravissimo E ora cambiamo argomento perché sono numerose e consistenti le perdite d'acqua occulte rilevate nelle ultime settimane da ASET SPA tra gli impianti interni dei privati la società dei servizi quindi invita a monitorare i consumi attraverso la lettura diretta del contatore al fine di individuare in modo tempestivo eventuali malfunzionamenti nel proprio impianto e darne comunicazione alla stessa ASET in questo modo le perdite vengono immediatamente intercettate e il problema potrà essere risolto all'istante e senza particolari conseguenze l'autolettura è una buona abitudine anche ai fini della fatturazione per questo ASET invita l'utenza a rilevare autonomamente i consumi indicati dal proprio contatore per poi darne comunicazione attraverso una modalità che vedete in questo momento in grafica dall'8 ottobre inizia l'attività della nuova POTES 118 a Terre Roveresche nel centro salute Carlo Amodio in via della Fornace ad Orciano l'apertura di una postazione di emergenza H24 ha commentato l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini costituisce un potenziamento del servizio indispensabile per garantire l'attività di intervento in un territorio che per conformazione geografica e casistica lo richiedeva la nuova POTES aggiunto l'assessore svolgerà l'attività prima garantita dalle due POTES più vicine quindi Cagli e Fossombrone ma con personale già presente sul posto prima si era costretti a contare sul personale di pronta disponibilità o in lavoro straordinario l'ambulanza di soccorso avanzato avrà per equipaggio un autista soccorritore ed un infermiere e seguirà le indicazioni della centrale operativa del 118 di Pesaro la sede POTES è stata messa a disposizione dal comune mentre il personale sarà assicurato dall'area vasta 1 e ora passiamo alle vostre segnalazioni alcuni residenti ci hanno segnalato la situazione in cui versa il torrente Arzilla a Fano un corso d'acqua non pulito e pericoloso che potrebbe preoccupare le abitazioni vicine in caso di forti precipitazioni o bombe d'acqua intervenire al più presto sul torrente Arzilla prima che sia troppo tardi i residenti della zona del Ponte Mimmo a Fano sono preoccupati sulla situazione in cui versa il corso d'acqua quasi irriconoscibile per la tanta vegetazione cresciuta negli ultimi tempi a farsi portavoce è Sergio Carboni 83 anni vissuti proprio a ridosso del torrente che lancia un appello a più voci prima che succeda irreparabile proprio come è successo recentemente nell'entroterra pesarese e anconetano l'ultima volta che sono venuti a ripulire il letto del torrente ha giunto Carboni è stato oltre dieci anni fa ma poi non si è visto più nessuno con le forti piogge delle settimane scorse molti alberi sono caduti sul sentiero mentre altri sono ancora in bilico sia sul corso d'acqua che anche sui cavi delle linee telefoniche una situazione pericolosa per chi vive o frequenta questa zona innanzitutto devo ringraziare Fano TV di questo intervento purtroppo negli ultimi tempi si è verificato quello che pensavamo cioè ogni volta che c'è un temporale e che piove le piante secolari che sono lungo il torrente Arzilla quindi è un problema grosso io penso che non dipende da chi gli è assessorato di oggi sono 50 anni che nessuno si vede ripulire l'Arzilla il consorzio di Bonifica qualche anno fa è venuto per me ha fatto qualche lavoro poi non avendo i fondi ha smesso quindi dopo quegli anni è peggiorata la situazione perché una volta ripulito l'argine quando è ripulito la vegetazione cresce ancora di più in particolare quest'anno ho visto in due mesi di secca che non c'era acqua la vegetazione sembrava una foresta proprio ora, visto quello che è accaduto a Cantiano siamo presi un po' dalla paura perché sono sicuro che se piove un temporale o una bomba d'acqua l'acqua arriva nelle nostre case di sicuro non nei campi i campi ce ne sono ma se arrivano nei locali il problema è come nell'81 mi sembra che siamo scappati via dalla gran pioggia dal gran temporale della grande alluvione che abbiamo avuto paura ora se piove di nuovo sono certo che succede il peggio quindi un po' di buona volontà non so di chi dipende da regione di chi di dare una ripulitina al torrente azile più amare invece alcuni reporter di strada ci hanno segnalato la situazione in cui versano i ponti sul fiume Metauro tra cui anche quello ferroviario il forte maltempo delle scorse settimane ha provocato un accumulo di tronchi e rami che si sono incastrati tra le colonne bloccando il normale del flusso del corso d'acqua verso il mare una situazione si legge nel messaggio che necessita quanto prima di una sistemazione in vista di altre possibili emergenze meteo dopo il servizio andato in onda ieri sera nel nostro telegiornale sulla piantumazione di quegli alberelli che sono in fin di vita in alcune aree di Fano quest'oggi sono arrivate altre immagini dai nostri reporter di strada ricordiamo che il numero per le segnalazioni è 338 49 68 250 come potete vedere da queste foto ci troviamo nella zona dell'ex campo d'aviazione nel quartiere Vallato più esattamente nel bosco della memoria in ricordo delle vittime del covid purtroppo anche qui come scrivono nel messaggio alcuni arbusti e alberi sono ormai morti inoltre ci hanno fatto notare che sono ancora presenti delle buche realizzate per la piantumazione di nuovi alberi mai piantati aperte nel terreno pericolose per chi cammina o non le vede anche qui gireremo questa segnalazione all'ufficio competente del comune di Fano e rimaniamo sempre nel comune di Fano perché dopo le dimissioni dell'assessore Fabiola Tonelli si è dato seguito al rimpasto di giunta il sindaco Seri ha affidato questa mattina il settore dei lavori pubblici a Barbara Brunori mentre le deliche dell'ambiente e alla cultura passano al nuovo assessore Cora Fattori ha firmato e accettato gli incarichi questa mattina al neoassessore Cora Fattori che alle 8.30 si è recato in municipio per dare avvio al suo mandato 41 anni laureate in ingegneria edile architettura consigliera comunale di più Europa e presidente della commissione consigliare servizi finanziari Fattori è già titolare della delega all'efficientamento energetico della città al neoassessore Seri ha affidato le deleghe alla cultura e ai beni culturali all'ambiente alla smart city all'innovazione tecnologica e al sistema informatico comunale altre delege invece sono state redistribuite a Barbara Brunori si aggiunge alla delega ai lavori pubblici mantiene quelle allo sport al decoro urbano e alle nuove generazioni ma perde oltre all'ambiente la delega alla partecipazione che comprende i quartieri e la cittadinanza attiva queste infatti sono state attribuite a Detti e Lucarelli già assessore agli eventi e alle attività economiche questa mattina Fattori ha partecipato alla sua prima riunione di giunta insieme a lei una delle sue figlie Elena di appena 4 mesi al suo posto in consiglio comunale subentrerà Filippo Borioni ancora tutte delega importanti tra l'altro durante la conferenza stampa ha detto che ambiente e cultura non vanno in antitesi assolutamente no ambiente e cultura vanno a braccetto ed è significativo il fatto che la cultura sia stata data assieme all'ambiente perché vuol dire testimonia la direzione che vuole prendere la pubblica amministrazione in conferenza stampa abbiamo parlato anche delle gravi criticità dal punto di vista economico che questa emergenza energetica ci porterà e a maggior ragione una delega puntata sull'ambiente ci fa capire che quello energetico e ambientale vuole essere un cardine di questa nuova amministrazione di questa amministrazione con questo nuovo corso speriamo di riuscire in un anno e mezzo a fare il possibile perché i tempi sono assolutamente veloci è il proseguo di un percorso che abbiamo già già cominciato da anni anche con la delega consigliare con la collaborazione dell'assessore in primi stonelli anche con l'assessore Brunori e quindi speriamo di proseguire in questa direzione sui beni culturali invece? sui beni culturali sarà importante garantire la fruibilità e l'accessibilità e sono contenta che su un bene culturale cardine come il teatro romano sia mantenuta la delega al consigliere Stefano Marchegiani che è di famiglia diciamo perché siamo fino a questa mattina eravamo in gruppo consigliare insieme persona assolutamente straordinaria e sarà importante rivalorizzarli e renderli sempre più fruibili anche in vista di Pesaro 2024 Cora è giovani dinamica e operativa ha commentato soddisfatto il sindaco Seri a un anno e mezzo dalla fine del mandato ha ricordato il primo cittadino questa è la fase in cui dobbiamo portare a compimento gli obiettivi che ci siamo dati e l'ingresso di fattori ha detto è un'occasione di rilancio e di rinnovato invito ad essere una squadra noi abbiamo bisogno per affrontare le sfide anche di innovazione nel modo di agire con il pragmatismo ma anche cogliendo quelli che sono i cambiamenti avevo un'esigenza di riattribuire la cultura l'ambiente è un tema di quelli forti lo vediamo con i cambiamenti climatici ma c'è tutto un tema vasto importante che vede tanti fronti e mi piace abbinare anche quest'idea cultura-ambiente detto questo faccio gli auguri al nuovo assessore e si riparte con gli obiettivi da perseguire da qui a fine mandato sabato 8 ottobre alle ore 10 al Codma di Rosciano a Fano si terrà un incontro informativo sul volontariato di protezione civile organizzato dal CB Club Mattei agli interessati sarà anche illustrato il percorso formativo per conseguire il brevetto di tipo C di FirCB Federazione Italiana Ricce Trasmissioni mentre la prossima settimana dall'11 al 14 ottobre dalle ore 16 alle ore 18 alla Mediateca Montanari di Fano è in programma il laboratorio di orientamento al lavoro per ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni l'iniziativa è promossa dal progetto Policoro Caritas Diocesana e il centro per l'impiego il progetto si sviluppa in 4 workshop gratuiti giovedì 13 è previsto anche l'intervento del centro per l'impiego per completare il percorso sono previsti una visita aziendale e incontri con imprenditori del territorio il corso è a numero chiuso e le iscrizioni dovranno essere effettuate entro l'11 ottobre al numero di telefono che vedete in questa locandina e con questa ultima notizia chiudiamo la nostra edizione del telegiornale vi ricordo che subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo e a seguire le programmazioni di Fano TV l'appuntamento con l'informazione invece torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.